Dopo due anni dalla nuova legislatura siamo partiti per realizzare a Sasso Corvaro ciò che avevamo promesso. Questo in realtà ha una denominazione di ospedale e di comunità, ma dentro ci sono posti letti per acuti, cioè reparto medicina, chirurgia, ortopedia, e siamo riusciti ad allestire anche un punto di primo intervento che si chiama PAT, ma di fatto di sostanza è un punto di primo intervento. Questo è un impegno che dovevamo garantire a una comunità montana, una sede disagiata come quella dei comuni che sono intorno all'ospedale di Sasso Corvaro, lo voglio ricordare, non è l'ospedale di Sasso Corvaro, è l'ospedale di un'intera zona, che naturalmente è un pezzo del sistema sanitario pesarese che noi vogliamo rafforzare in collegamento diretto con Urbino e con tutte le altre strutture, compresa per la diagnostica più importante, l'ospedale di Pesaro e di Fano. Finalmente inauguriamo qui alla struttura di Sasso Corvaro un punto PAT, un punto di assistenza territoriale, che non è poco per il nostro territorio, quindi l'opportunità di avere un medico divisionale all'interno della struttura che collabora insieme alla POTES per dare una risposta tempestiva per l'emergenza sul territorio. È una richiesta che facciamo da tanto, punteremo ancora più in alto perché questo è un PAT, ma noi vorremmo ritornare al funzionamento di un PP, di un punto di primo intervento, ma per farlo diventare PP avremo bisogno di attivare all'interno della struttura anche tutto il laboratorio analisi e tutta la parte di radiologia e quindi tutto quello che riguarda la radiologia, il laboratorio analisi di supporto al PAT. In questo modo il PAT può dare una risposta come un PP. Sappiamo benissimo che la riforma 70 del decreto Belduzzi non prevede all'interno delle strutture riconvertite il PP, però noi possiamo ripristinare un PAT e attivare un PAT con le stesse funzioni di un PP. Quindi ci auguriamo questo, siamo in perfetta sinergia e collaborazione con l'Asur e con la Regione Marche che sta investendo nei nostri territori, nei territori dell'area interna, soprattutto su quelle aree dove la sanità è stata smattellata. Questo per noi è un altro passo in avanti, è un ripristino dei servizi, stiamo rinascendo dalle macerie che abbiamo ereditato e quindi piano piano un tassello alla volta ci riprendiamo una sanità, una sanità più vicina ai cittadini, una sanità territoriale perché non devono esistere territori di serie B o di serie C di fronte al diritto alla salute e alla sanità. È una risposta per l'entroterra, è un servizio aggiuntivo, è cercare di costruire un circuito di servizi che possa garantire l'assistenza necessaria ai territori al nostro entraterra.